Draghi sì, Draghi no, innanzitutto è un tema che dovrà essere chiesto alle forze politiche e a Mario Draghi a metà gennaio. Io non sono uno di quelli che si scandalizza nel dire... Cioè ci sono delle persone che dicono Draghi no, Draghi sì, sembra il quiz, gente che non ha mai fatto politica e che arriva lì a dire qui, là, sotto e sopra. Allora, Mario Draghi ha salvato questo paese da un governo guidato da una persona che non era all'altezza. Lo dico nell'unico posto in cui siete all'opposizione. Oggi in Italia c'è solo Fratelli d'Italia all'opposizione, giusto? Bene, io vi dico, Draghi qui a casa vostra, meno male che Draghi c'è. Una volta che vi ho detto che secondo me Draghi è un grandissimo Presidente del Consiglio e che lo farebbe molto bene, se Draghi farà Presidente della Repubblica farà molto bene anche Presidente della Repubblica. Ma fino al 15 gennaio ogni discussione è prematura. L'importante è dire il Presidente della Repubblica scegliamolo insieme perché su questo sono d'accordo sia con Pera che con Violante. Al prossimo giro si vada tutti insieme a scrivere delle regole che aiutino la democrazia a essere decidente.